Per me il mental coach è una persona che ti aiuta con le proprie difficoltà. Localizzare gli obiettivi mi aiuta anche a raggiungerli con lucidità e metodo. Ci aiuta a capire una dinamica che tu nelle difficoltà non avevi considerato. Ci aiuta a migliorare sia le prestazioni in gara che sia il modo di affrontare le cose. Il mental coach è una persona che ti aiuta a... Quindi si chiama il mental coach per aiutare l'atleta a realizzare quell'obiettivo. Perché dobbiamo avere il coraggio innanzitutto di ammettere le cose a noi stessi. Altrimenti la nostra stessa mente non ci crede. Quindi io vi chiedo, vogliamo dire di no o vogliamo dire... Diciamo di no o diciamo di... Bene, ora la mente inizia a crederci. Quindi ho respirato, ho sentito... Riparto col dialogo interno. Penso corto, mi concentro. Respiro, penso corto, positivo, mi concentro. Respiro, penso corto, positivo, mi concentro. Positivo, mi concentro. Io lo so che sono complicato, però io ti posso dire cosa faccio io. Sprigionare quello che è il tuo potenziale, che già esiste, ma che è soffocato da diversi elementi. Per cui il mental coach fa in modo che venga fuori questo tuo potenziale. Vai, circolo mano sinistra e uno alla volta nell'ordine di prima l'esercizio. A un certo punto c'è stata la svolta perché abbiamo messo dei bicchierini di plastica con dell'acqua dentro. Non hanno potere o un significato particolare, ma è il significato che i ragazzi danno a quell'esercizio che crea tensione, che crea pressione. Il bicchiere può cadere, il cavallo lo prenderà, farò la brutta figura, fallirò. Questi sono i pensieri che vengono durante un concorso, durante una finale. La strategia è dare un significato utile. Quindi abbiamo spostato non come, oddio, una prova difficile, farò brutta figura, ma che bella opportunità, come sono felice. E infatti quei bicchierini non sono, fino adesso, mai caduti. Creare della pressione. E gli ho insegnato, di conseguenza, come gestire quella pressione. di visualizzare l'obiettivo e la strada. Insieme, 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 insieme. Brava! Com'è andata? Bene. Felicissima. Ve l'aspettavate? No. No. Divertiti? Abbastanza. Grazie. Grazie a tutti.